Molti vegani votano 5 Stelle perché riconoscono la continuità con le loro battaglie. Lei sta con i carnivori o con i vegani? Io sto provando, onestamente e faticosamente, ognuno avrà il suo percorso a rinunciare sempre di più alla carne. Ma perché sei attivista 5 Stelle? Tutto questi 5 Stelle che c'entrano è partito dove... 5 Stelle è l'unico movimento al mondo che propaganda caospirasi, che Lorenzo saprà essere il più importante documentario sull'impatto ambientale della carne. Assolutamente, non guardo altro io. Tra l'altro abbiamo mandato il Parlamento Europeo, la Camera, lo manderemo in ragione. Sì, no, quello è vero. I 5 Stelle sono praticamente un movimento pro-vegano, pro-vegan. È un movimento ambientalista, nel momento in cui vedi cospirsi se sei ambientalista di per forza essere vegan. Quindi Grillo è non mangia la carne? No, adesso guarda lo sbucciato. No, girano voci che si stia... Visto che tutti quanti fanno outing, io seguo una dieta vegana da più di un anno. Essendo stato vegetariano invece da moltissimo tempo, devo ringraziare lui, là dietro, Lello Ciampolillo. Che con, dopo tante discussioni, ha maturato dentro di me questa scelta. Mi sento benissimo, faccio dura di sport tutti i giorni, quindi non è neanche vero che non mangiare carne o proteine di origine animale sia un problema per la salute. Cioè, semmai lo è al contrario, nel senso che ti ammali. Grazie. Grazie.